I consiglieri regionali di Forza Italia scendono in campo per presentare un progetto di legge riguardante l'acquisto di mobili da destinare ad abitazione principale in caso di morosità incolpevole. Una proposta che vuole dare una risposta concreta a lavoratori, famiglie, imprese e più in generale a comparti in difficoltà nel pagamento di mutui contratti per l'acquisto della prima casa. Il lavoro è un diritto sancito nella nostra Costituzione. Tutte le stime di uscita della crisi economica si allungano mese per mese ed anno per anno. Oggi c'è una categoria, quelli dei cittadini, che sono dei morosi incolpevoli rispetto al mutuo che hanno contratto per l'acquisto della propria prima abitazione. Magari questa casa è stata già pagata per il 40, 50, 60, 70% e il fatto che la crisi continui genera la difficoltà incolpevole a pagare le rate dei mutui. Allora noi chiediamo di salvare quegli immobili, di ricontrattualizzare il debito per il tramite della Regione che interviene sui istituti bancari e a determinate condizioni economiche la Regione si sostituisce alla banca erogante rientrando a condizioni più sostenibili. Cioè vogliamo salvare i sacrifici di tante famiglie che per tanti anni hanno pagato regolarmente il proprio mutuo. Si tratta di una legge che non dovrebbe essere né di destra né di sinistra ma per le persone in difficoltà, per i cittadini della nostra Regione. L'abbiamo presentata noi e si sa qual è la nostra parte politica. Crediamo che venga sottoscritta da tutti i consigli di gruppo di opposizione ma speriamo che venga fatta propria dal Governo regionale. Non credo che salvare le abitazioni che in Italia sono il fulcro della costruzione di una famiglia sia qualcosa che possa essere etichettata politicamente. È una delle proposte normative che noi portiamo nei mesi che ci separano dall'approvazione della finanziaria regionale. Sappiamo che ci sono delle risorse, sappiamo dove prenderle ma offriamo questo dibattito anche alla condivisione della maggioranza.